A ritmo intenso il lavoro nel periodo tra Natale e la Befana nella banca del giocattolo che ha sede a Biella. Appena un anno di vita questo istituto che funziona in un clima di tenera favola. I giocattoli che vengono qui depositati non saranno mai più prelevati dal proprietario. Sono distribuiti ai bambini più poveri. Varranno a far fiorire il sorriso su volti che troppo presto hanno conosciuto gli aspetti più tristi dell'esistenza. La generosità è un fiore che cresce rigoglioso senza bisogno di fertilizzanti nei giovani cuori. Lo dimostra l'affollamento agli sportelli. Non be' bimbo agiato di Biella, si può dire, che non abbia contribuito ad arricchire i capaci magazzini della banca. Basta dare uno sguardo allo schedario per constatare di quanti e quanti anelli è costituita la meravigliosa catena della solidarietà infantile. Nelle più sperdute casupole della regione arriveranno questi assegni, tanti quanti sono le lettere. Perché nessuna resta senza risposta. Fornito di modernissime macchine il contabile, ma una controllatina al più congeniale pallottoliere non guasta.